Voleva essere una vittoria dedicata a Paolo Spada, invece non è stato così. Al Morgani arriva un Forlì che continua a stupire, ottenuti nel recupero tre punti in esterna sul difficile campo dei Fiorenzuoli. I Galletti vogliono proseguire nel loro momento d'oro, cercando il successo con la Pro Livorno, ma la partita si dimostrerà tutt'altro che facile. I bianco-rossi vanno da subito in gol da un calcio piazzato battuto a Giglioli. Ferrari trova la deviazione vincente di testa, ma l'arbitro annulla per presunto fuorigioco. La Pro Livorno risponde con questa conclusione a dimenticare l'adopera di Granito. Il Forlì prova a fare male da punizione, ma la sfera di Gasperoni sfiori il palo, alla sinistra dell'estremo, ospite con evidente deviazione. La Pro Livorno quando accelera fa male e qui ne è una pura dimostrazione quando Camarlinghi si procura un calcio di rigore. Dagli 11 metri Rossi non tradisce l'appuntamento con la rete portando in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa la discesa del solito Camarlinghi fa male, Gerson salva sulla linea di porta. Dall'angolo la Pro Livorno trova il raddoppio, ma la posizione di Granito è vincente, ma non quella del compagno che disturba la visuale al portiere De Gori, risultando in fuorigioco. Il Forlì cerca sempre i gol dal calcio piazzato, ma la sfera di Gigliotti non reca particolari patemi. Questa volta la punizione per la Pro Livorno, Rossi chiama l'intervento così, De Gori. Dall'angolo Camarlinghi mette al centro laddove interviene per il tapì vincente Granito, firmando questa volta lo 0-2, valido e come. Incredibile al Morgani, la reazione del Forlì avviene nell'immediato. Poco dopo l'1-2 Tortori Gersos porta al tiro quest'ultimo con la riapertura dei giochi, 1-2. Tortori con la serpentina trova l'affondo decisivo, pallone al centro, ma Gigliotti calcia malamente sprecando l'occasionissima per il pareggio. Ancora Forlì sugli scudi, Bonocunto appoggia per Biasol, che di testa chiama la facile presa Blundo. In contropiede nel finale, Camarlinghi, chi se no, solita discesa per lui, che produce il definitivo 1-3, con involontaria e sfortunata deviazione nella propria porta ad opera di Gersos. Per il Forlì un passo indietro sul piano dei punti per quanto riguarda la Pro Livorno, con una volta, se mai ce ne fosse bisogno, una piacevole sorpresa di questo torneo.